Si è tornato a riunire oggi il Consiglio Comunale di Foggia, il primo punto all'ordine del giorno è rappresentato dagli atti di indirizzo sulle società partecipate e controllate dell'ente. Il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Maniero, già candidato sindaco, aveva proposto il rinvio con una pregiudiziale che è stata respinta e è andato giù duro sull'assenza di controllo analogo. In che senso? Oggi abbiamo potuto verificare come anche gli stessi divisori degli enti locali abbiano evidenziato come questo atto arriva con oltre 5 mesi di ritardo. Oggi, dopodiché, hanno adottato un atto dove viene sancita la totale assenza da parte del Comune di Foggia del servizio partecipate, del cosiddetto controllo analogo, ma non solo. Le società partecipate in questi anni a guida commissariale, compreso i 6 mesi della gestione episcopo, non hanno adottato tutto ciò che prevede il testo unico delle società partecipate. In pratica noi ci troviamo delle società che hanno bilanci per decine di milioni, pensi ad AMIU, pensi ad ACAF che ha oltre 200 dipendenti oppure AMIU, e vengono amministrate come viene amministrato il chiosco che vende le patatine alla villa senza voler offendere il chiosco che vende le patatine alla villa. Quindi noi abbiamo un ente comune che non esercita nessuna attività di programmazione, tanto è vero che oggi prendiamo atto che addirittura si propone la vendita del palazzo per poche terre e estingue i mutui della società AMGAS. Società AMGAS, che ricordo a tutti, detiene un patrimonio di oltre 40 milioni di euro solo per quanto riguarda la rete. Rispetto all'allarme lanciato dall'amministratore unico dimissionario di AMGAS sulla crisi finanziaria da scongiurare per la controllata, cosa pensate di fare? Abbiamo già avanzato formalmente una richiesta all'amministratore di AMGAS per insegnare quelli che sono tutta la documentazione contabile. Abbiamo inviato una richiesta con un lungo elenco di documentazione da inviarci per poter effettuare il controllo analogo fino in fondo, quindi per poter verificare quelle che sono queste esigenze di difficoltà di liquidità che sono dovute a una serie di fattori. Primo fra tutti, soprattutto in periodo Covid, la fatturazione negativa che ha comportato un credito IVA non indifferente, che però ovviamente verrà smaltito nei prossimi anni e ha comportato che adesso c'è una difficoltà di liquidità. Però ad esempio c'è stata già settimana scorsa arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che ha visto AMGAS vittoriosa nei confronti della RERA, quindi la possibilità di recuperare una cospicua somma di denaro da parte dell'Agenzia di Controllo e quindi ovviamente stiamo monitorando e tenendo sotto controllo quelle che sono le indicazioni che ci sono state fornite dall'amministratore unico.